Benjamin, prima partita da mente al tuo nuovo pubblico, Vittor, e tu hai fatto gol del X. Non potevi chiedere di più? No, contro il X non conta. Volevo fare gol, la prima partita in casa, con la mia nuova Maria, con il mio suo stesso. Penso che abbiamo fatto una grande partita. Complimenti pure ai ragazzi, mi è piaciuta tanto l'atteggiamento e speriamo di continuare così tutto il campionato. Ok, la prestazione della squadra è soddisfacente, Vittor, secondo me è meritata, non so cosa pensi tu. Sì, per me è meritata, abbiamo messo l'atteggiamento giusto, abbiamo avuto più occasioni pure, abbiamo subito tanti fagli, quindi per me è giusto. Con rispetto a Parma la squadra mi sembra cresciuta molto, cosa è cambiato? Dai, diciamo che abbiamo le gambe più brillanti oggi, poi dopo una sconfitta, veniamo con un'altra mentalità, volevamo fare bene in casa e penso che l'abbiamo fatto. Grazie. Vuoi dedicare a qualcuno questo tuo primo gol in grigio rosso? Scusa? Vuoi dedicare a qualcuno il tuo primo gol in grigio rosso? No, voglio dedicare a tutta la mia famiglia, c'è un mio amico che sta già concedendo oggi, che sta in Belgio, lo saluto. E a tutti i tifosi della premonenza. Grazie. 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 Grazie.